Buon pomeriggio cari amiche e cari amici, mai una bella notizia in questo momento di calcio con il pallone fermo, è successo di tutto in queste due settimane, l'unica gioia è che il Milan è sempre in testa alla classifica e lì fino al prossimo weekend nessuno può toccarlo, però purtroppo un'altra notizia pesante per il Milan ma anche per le altre squadre. Intanto mi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare dal link in descrizione nell'applicazione numero 10. Che cosa è successo? È stato tolto il decreto crescita, a partire attenzione dai giocatori acquistati nella scorsa estate. Questo comporta che gli ingaggi di Loftus Cic, di Reinders e di Musa, di giocatori insomma acquistati nella scorsa estate, vi ricordate se un giocatore, ve lo voglio ricordare, costava a livello di ingaggio 5, invece di pagare 10, il decreto crescita permetteva di pagare circa 7, 7 e mezzo più o meno. Invece anche per i giocatori dell'estate scorsa, se un giocatore ha un ingaggio di 5, al Milan costa 10. Quindi una bella mazzata. Non parliamo poi delle squadre, sono anche vicine a noi, a Milano, che vanno a prendere giustamente, legittimamente, giocatori a parametro zero dicendo va bene, parametro zero, ma io poi posso, vedi l'esempio Turam, dare più del Milan, il Milan offreva 4,5, l'Inter 5,5, 6 più o meno, perché mi costa 7,8. Adesso no, l'Inter in questo caso per Turam, che è stato certamente un parametro zero, ma deve pagare 12 milioni di euro, oppure 11 circa. Questo per l'Inter, per la Juventus, per Cerauea, il Napoli in altri due o tre, Awar per esempio per la Roma. Insomma, perché hanno fatto questo? Probabilmente per favorire il mercato italiano, perché allora ci si rivolge al mercato italiano. Faccio solo però un ragionamento? Sì, teoricamente, perché uno va sul mercato italiano e va a cercare un giocatore come Reinders o come Loftus-Cic, che non ce ne sono, può andare a prendere, per esempio, prendiamo il caso del centrocampista nazionale Frattesi, oggi il prezzo è intorno ai 30-35 milioni di euro. È un prezzo che probabilmente li varrà, ma indubbiamente all'estero vai a prendere un Loftus-Cic. Metto poi a uno preferisce Frattesi, uno preferisce Loftus-Cic, ma sono questi giocatori forti, sono questi campioni e però ti costa 20-22. Poi c'è l'ingaggio, ma indubbiamente già l'ingaggio italiano comunque è sempre notevole. Quindi ecco perché sì, può darsi che ci sia un tentativo di incremento del mercato italiano, ma dato che il mercato italiano per i buoni giocatori è ipervalutato, ricordo che ho letto, ho letto, Cambiaso volevano 25 milioni di euro, un eccellente giocatore, però insomma all'estero puoi trovare dei giocatori più o meno simili, secondo me a meno. Baldanzi dai 15 ai 20 milioni, altro buon giocatore, però anche lì all'estero puoi trovare dei giocatori equivalenti che costano meno. Quindi d'accordo però se il mercato italiano per i bravi giocatori, per i prospetti interessanti ha sempre queste quotazioni, poi alla fine si andrà lo stesso sul mercato estero, dove per i grandi campioni ovviamente c'è un prezzo molto elevato. Che cosa porterà questo? Che da un'altra parte, dall'altra parte si potrà andare all'estero per i giocatori veramente che ne valga la pena, perché altrimenti non essendoci più il decreto crescita, indubbiamente l'estero è un po' meno appetito, anche se ritengo, ripeto, che i prezzi all'estero per giocatori simili a quelli italiani siano un po' inferiori. Quindi questa è una mazzata che arriva comunque sulle squadre italiane, Milan compreso, che dovranno rivedere un po' la situazione Conti e poi se questo poi comporterà che il livello del calcio italiano, non arrivando dei grandi giocatori stranieri, poi si abbasserà ulteriormente, questo lo vedrà solamente il tempo ed è per questo motivo che il Milan, signori, intanto parliamo di Milan, va a San Donato, perché è l'unico modo per competere con le squadre, con i top club europei. Giorgio Furlani, fin dai tempi, fino a due o tre anni fa, quando parlavo più o meno con lui e lavorava ancora al fondo Elliot, mi bloccava sempre. Ma chi compriamo? Lo stadio, serve lo stadio, senza lo stadio non possiamo fare nulla e me l'ha sempre, sempre detto. Quindi ecco perché le parole ieri di Gerry Cardinale sono state parole importanti, ormai è chiaro un addio a Milano San Siro e si va a San Donato. Si spera che tutto sia pronto per l'inizio del 2025, a livello di tutte le pratiche burocratiche, ci diamo un anno e tre mesi, per poter mettere il primo mattone e quindi San Siro lo teneremo nel cuore fino al 2027, se i tempi poi al limite del 2028 potranno diventare 2029. Però si va in quella direzione, l'unica direzione che permetterà al Milan di tentare, non è detto che sia automatico, ma di tentare di competere con le grandi squadre. E allora lì il decreto crescita, i due o tre milioni che si riparmino o che in questo caso si sono persi, non sono più importanti perché ci sono dei macro numeri fondamentali per la crescita. E quindi ribadisco il concetto che l'opera del fondo Elliot, che io ho paragonato a Sacchi, e poi è arrivato Capello, cioè il Red Bird con Gerry Cardinale, è stata come ai tempi sul piano tecnico una grande fortuna del Milan, che è diventata la squadra più forte al mondo di club, secondo la FIFA e poi ha continuato a vincere in Italia e in Europa. La stessa cosa, ripeto, col fondo Elliot. Siamo tornati competitivi con i conti a posto e adesso Red Bird e Cardinale cercheranno di estendere con la voglia di Gerry Cardinale di primeggiare e di creare una piccola America a livello mentale, a livello di mentalità, a livello di investimento con idee molto chiare, innovative, che faranno certamente bene al Milan, sperando, dice Gerry Cardinale, perché Gerry Cardinale è intelligente, che sia opera di trascinamento anche per la Lega e per tutte le squadre italiane. Dobbiamo parlare di scommesse, oggi non ci sono grandi novità. Ieri vi ho già detto nel video di questa mattina che Fabrizio Corona ha detto che Tonali non avrebbe scommesso sul Milan. Sono contento per lui, perché sennò la pena sarebbe più grave. Vediamo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni. Questa sera ci saranno degli altri, probabilmente delle altre rivelazioni, però è quello che conta è capire quando eventualmente la procura, perché la giustizia ordinaria è una giustizia ordinaria che si sta occupando di antimafia, di eversione e quindi ha delle inchieste sempre legate però alla malavita legata alle scommesse che ha dei tempi importanti, dei passi dove non si può mai sbagliare, quindi non c'è tutta questa premura, secondo probabilmente la giustizia ordinaria, di mettere a pubblico ludibrio i nomi, perché si stanno muovendo ovviamente con lo scopo di cercare di fermare delle grosse organizzazioni. questi giocatori eventuali sono delle pedine in mano a queste grosse organizzazioni malavitose che la giustizia ordinaria cercherà ovviamente di fermare per sempre, se riuscirà almeno questo filone della giustizia ordinaria, questo filone dell'inchiesta. Il Milan oggi ha ripreso, riprende gli allenamenti, nel video di questa sera cercheremo di capire le condizioni dei giocatori che stanno per recuperare e per capire quanti giocatori di questi, speriamo tutti e tre, siano a disposizione di Stefano Pioli. Per quello che riguarda Pulisic sarà l'ultimo ad arrivare perché mi sembra che giochi domani alle due e mezzo, quindi mercoledì e nella notte tra mercoledì e giovedì, quindi arriverà giovedì probabilmente sera, però rispetto alle ultime convocazioni della nazionale statunitense siamo un po' più fortunati perché avrà tutto il venerdì e il sabato per allenarsi. Che cosa abbia intenzione Pioli di fare in questo momento non è detto riguardo alla formazione, vediamo se andrà con la formazione diciamo più logica in questo momento con il dubbio Adli, Krunic o Musa come centrale di centrocampo, sappiamo che il Milan non ha Teo, non ha Mignan, un Mignan che ieri ha detto che sarà una partita molto particolare, lui è Tettaragono a ogni emozione ma la partita col Paris Saint-Germain, lui è nato nel Paris Saint-Germain con i suoi genitori, con i suoi parenti, con gli amici, sono una partita particolare, dice dovrò concentrarmi ma l'emozione sarà alta in quella serata del Parc de Parence. Ma pensiamo alla Juventus, una Juventus che non può avere Danilo e quindi dovrà cercare di trovare le soluzioni più giuste, Massimiliano Allegri, ma noi dobbiamo pensare solo a noi, sperando di ritrovare il Milan per esempio uno dei più bei Milan della stagione, io metto il secondo tempo con la Lazio. Ecco, questo Milan non teme nessuno, chiaro che bisogna vedere tatticamente cosa inventerà Allegri perché il che venga qui a giocarsela per vedere che sia più forte ci sembra un pochettino difficile, però vediamo. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.